si parte per napoli allora ci siamo dopo un breve pit stop di due notti si riparte questa volta da soli nel senso senza i nonni che rimangono a firenze si fa una tappa a napoli a trovare gli zii di sara un po di mare e poi dopo si si prosegue se andrà forse a fare un giro non lo so in appennino in abruzzo a cercare degli amici che stanno campeggiando però dai fa caldissimo ci sono 40 gradi si parte ok sei pronta si vada agli zii si arriva ciao ciao siamo a roma allora breve sosta cena ora si prepara il caffè e poi si cerca un posticino per dormire così domattina si arriva a mattinata ad agnone allora 23 minuti alla nostra destinazione si è svegliato anche lorenzo il signorino alle 10 e 34 si sveglia giustamente eccoci qua questo sotto e agnone tra pochissimi minuti saremo a casa ora ci aspettano 4 5 giorni di relax con gli zii un po di pesca un po di mare un po di tuffi un po di tutto sei pronto lori si va si va trovati andale ci siamo ci siamo arriviamo cinque giorni di relax vediamo e di ingrasso ciao ciao buongiorno bello aspetta parcheggio eh con la Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.